I carabinieri di Petiglia Policastro, al termine di un prolungato servizio di osservazione e pedinamento effettuato nell'ambito dei servizi al contrasto al fenomeno della diffusione delle sostanze stupefacenti nell'intera provincia disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Crotone, hanno sottoposto a controllo CC54N, operaio forestale, il quale è stato fermato nei pressi della sua abitazione, sita a Paiarelle, dopo essere stato notato recarsi a piedi in diversi luoghi isolati, tutti ubicate nelle vicinanze della sua abitazione, distanti al massimo 100 metri. In particolare i militari hanno monitorato, riscontrando che più volte in una giornata la persona sottoposta a controllo si recava e compieva gli stessi movimenti che hanno destato l'attenzione degli operanti, nei pressi di alcuni muretti a secco, lo hanno bloccato sottoponendo la perquisizione personale, rivenendo a seguito di un'accurata perquisizione e di meticolosa espressione, abilmente occultati tra i massi appositamente posizionati, quattro involucri in cellophane, risultati contenere complessivamente 40 grammi di marijuana già suddivisi in appositi pezzi, nonché tre bilancini elettronici di precisione e vario materiale idoneo al confezionamento della perdetta sostanza. Immediatamente condotto in caserma per il prosieguo degli accertamenti di rito, Cicci, in ragione delle risultanze investigative acquisite, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliare e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria del capoluogo, in attesa dello svolgimento del processo con il rito direttissimo.